del Foggia al 41esimo minuto della ripresa, gran gol, l'esplosione di gioia dei giocatori del Foggia in campo, di tutta la panchina, tutta la panchina ha raggiunto la bandierina per andare a festeggiare con i compagni sul terreno di gioco, tutti i componenti. Che gol, qua possiamo rivedere non solamente il tiro, la parte finale, la conclusione, qua la rispinta proprio da parte di Trieste, ma ottimo il controllo e derude l'intervento proprio da parte di Allievi, poi la incrocia di controbalzo, forte di collo sul secondo palo. Scintille sul terreno di gioco. Aspetta che la palla scenda al momento giusto. E' arrivato il cartellino per Fumagalli, cartellino giallo per il portiere del Foggia. Scintille in campo dopo questo bellissimo gol di Simone Dell'Agnello che ha praticamente lasciato